Sua eccellenza, si potrebbe fare qualcosa per questo ragazzo, perché c'ha tante qualità, però si affligge, si butta un po' giù. Se lei potesse prenderlo, no so, a lavorare, magari gli passa un po' di suo ottimismo, gli fa quei bei discorsi che fa lei su quanto è bella l'Italia, quanto si mangia bene la biodiversità, insomma faccia un po' lei. In realtà lui non è vero che pensi vista, è un grande ottimista. Dice così perché non ce l'ha in casa. È provato.